Sono stati oltre 42.900 gli immigrati sbarcati nel corso del 2013 sulle coste italiane, il numero più alto registrato dal 2008 dopo quello del 2011, l'anno della crisi libica. Il bilancio è dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Le donne sbarcate sono state oltre 5.400, mentre i minori oltre 8.300, dei quali 5.000 non accompagnati. La maggior parte degli sbarchi è interessato Lampedusa, 14.700, e il territorio siracusano, 14.300. Quest'anno i flussi migratori hanno registrato un aumento del numero di persone in fuga da guerre e regimi, afferma José Angelo Ropezza, direttore dell'ufficio di coordinamento OIM del Mediterraneo. La maggior parte degli immigrati continua arrivati via mare in Italia e sono stati infatti i siriani, eritrei e somali. Tutte persone costrette a lasciare il proprio paese che, secondo la normativa italiana e internazionale, hanno diritto a ricevere protezione in Italia. Gli sbarchi stanno continuando anche nel mese di gennaio. Ad augusto sono arrivati 204 immigrati soccorsi dalla Marina Militare nel canale di Sicilia. L'OIM calcola però che siano oltre 20.000 le persone morte negli ultimi 20 anni nel tentativo di raggiungere le coste italiane. 2.300 nel 2011, circa 700 nel 2013.